La gara di sabato con l'Ecco è stata una bella emozione, avrei voluto giocarla contro la mia ex squadra e i miei ex compagni, però ho sopportato i miei compagni dalla tribuna. Qui al primo anno comunque in Serie B è arrivato subito nella realtà a Cotenza, sono trovato fin dal primo giorno molto bene con i staff, con i compagni, col mister. Già ho sentito anche alcuni miei compagni che sono stati qui l'anno scorso come nasti e mi hanno parlato molto bene, devo dire che confermo tutto quanto e qui mi trovo molto bene. I compagni che mi stanno dando una mano giorno dopo giorno, anche al mister dal giorno in cui sono arrivato, mi ha dato consigli e quindi devo dire che sono molto contento di questo. Un allenatore che ci chiede molto, non guarda molto all'età, per cui ci dà molte responsabilità, soprattutto in mezzo al campo e ci dice di giocare facile, liberi per il campo, per cui io lo ascolto e quindi mi sto trovando anche bene sotto questo punto di vista. Deve lottare partita dopo partita e deve dimostrare sul campo il proprio valore e poi alla fine si tranno tutti i risultati. Non bisogna mai sottovalutare nessuna partita in Serie B, perché ogni partita è una partita diversa, per cui bisogna lottare contro chiunque e non sottovalutare mai nessuno. Per me è indifferente, nel senso che ho sempre giocato sia a due che a tre, per cui questo non credo sia un problema, anzi. Per me è importante riuscire a giocare e aiutare la squadra in ogni momento. No, è stato soltanto un piccolo intoppo, una paura che ho avuto in quel momento, però ora, a questa settimana, sono rientrato in gruppo e sarò disponibile con la Sampdoria. Anche quando sono arrivato qua a Cosenza, con le persone, con la società e tutto quanto, sto vivendo una bella esperienza e sono veramente molto contento di essere qui.